ci accogliamo stasera con che sta bene con il prosciutto crudo che ci facciamo un raviolo ravioli crudo e fichi al burro e basilico gli fichi la cordivapo ieri apriamo gli fichi estraiamo tutta la polpa lasciando la pelle mi sto a sporcare tutto questa la mettiamo nella parte e la mettiamo dentro una wall fichi pronti fino 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 che più fino non si può cioè se comprete il prosciutto crudo tagliato il banco è meglio io già io un pezzetto spesso deve essere sbriciolato cucine giù insieme ai fichi due cucchiai di ricotta e smuciniamo questa anche su una fetta del bac croccato è una bomba 100 grammi di farina un uovo pizzico di sale impastare pronti un frigo coperto con pellicola mezz'ora semola sul banco impasto prendiamo rassagno e cominciamo a tirare la pasta sperma 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 così è tirata bene coppa pasta ma potete anche utilizzare lo strumento efficientissimo ugualmente bicchiere faccimoli cerchietti maravande carini ripieno bello abbondante magari occhio non copri troppo li bordi come faccio io chiudiamo e cominciamo a ciaccal form ai bordi a chiuderlo formati ecco qua guardate che bellezza se volete potete chiuderlo anche con una forchettiva ai lati fin 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 tin titi triti pronti ra vi o loni curvatore e corno impuderla insieme a lui basilico fresco mettiamo dentro i nostri ra chi o lini a minuti appena vengono a galla li buttiamo lì guardate che poesia due messolini di acqua ricostura i nostri ravioli li finiamo due minuti in padella la crema vi attimo direttamente la spianatura ravioli crudo e fichi al burro e basilico bon appetit